Niccolò Bettarini a cuore aperto, quando i miei genitori si davano addosso. Intervistato a Verissimo, il figlio dell'ex difensore Stefano e della conduttrice Simona Ventura racconta lo stato d'animo con cui ha vissuto la separazione dei genitori, oggi il clima è finalmente sereno. È stato emozionante vederli ballare insieme, io ho vissuto gli anni in cui i miei genitori si davano addosso, ma non ho mai smesso di credere che un giorno ci saremmo tutti riuniti, finalmente sembra che questo giorno sia arrivato, io e i miei fratelli siamo molto felici. Queste le parole di Niccolò Bettarini, nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 6 gennaio a Verissimo, parlando dei suoi genitori, Simona Ventura e Stefano Bettarini, apparsi qualche tempo fa insieme in tv, al Maurizio Costanzo Show, a 14 anni dal divorzio. Dopo anni di battaglie, separazioni e rancori, finalmente la conduttrice e l'ex calciatore, sposatisi nel 1998, pare abbiano ritrovato la serenità. Parlando di loro, Niccolò confida, dopo tutti questi anni e nonostante tutto, i miei non si sono mai persi sul fatto di essere genitori. I problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguardano i figli, 19 anni, molto seguito sui social network grazie al suo fisico prestante e a un viso d'angelo, Niccolò non sembra avere tempo per pensare all'amore e dice, al momento non sono fidanzato, sto pensando più ai miei problemi al ginocchio, che alla ragazza. I problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguardano i figli. I problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguardano i figli. I problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguardano i figli. Grazie.